Luca Fanzani, Executive Producer di Mercurio. Stiamo cercando di capire come si crea uno spot pubblicitario. Qual è il ruolo della produzione? A noi dovrebbe arrivare uno storybook, uno scritto dall'agenzia approvato dal cliente. Poi si tratta di proporre un regista, si stabilisce con l'agenzia il cliente e il regista. Una volta stabilito il regista lui fa un trattamento dicendo come lo vuole fare, dove lo vuole fare. Purtroppo c'è anche un costo da mettere insieme. Poi piano piano si costruisce il casting, le location, dove si va a girare, con quali attori, da dove prendiamo gli attori. Mettendo insieme, cercando di farlo il più economico trattamento possibile, nel meno giorni possibile, incastrando tutti i desideri del regista, agenzia, cliente. Poi c'è una serie di persone fondamentali da organizzare, che è la scenografia, per mettere insieme roba tipo questa, il montatore per la postproduzione. Cioè ci mettono insieme tutto con il team per fare un film, è come se fosse un piccolo film. E in una settimana devi mettere, addobbare, costruire cabine, se non ci sono cabine. Adesso faccio un esempio su questo che è più semplice. La spiaggia era non completamente attrezzata per sembrare una spiaggia tipo Rimini, Riccione o Viareggio, eccetera. E abbiamo dovuto costruire una serie di cabine per renderla un pochettino più affascinante, diciamo. Poi prima di girare si fa una riunione con cliente e agenzia dove si dice questo è quello che vogliamo girare, quando, come, chi sono le comparse, come sono vestiti, dove c'è un minimo di piano di lavoro stabilendo per ogni giorno cosa si gira. Poi si viene sul set, si gira e giorno dopo giorno, seguendo un po' anche il meteo, si cerca di portare a casa il programma del giorno. E poi dopo c'è tutta la fase della post-produzione che è il montaggio, se ci sono degli effetti speciali, costruire gli effetti speciali. Finito il montaggio, dopo che l'ha visto anche il regista, poi si presenta l'agenzia, se l'agenzia è d'accordo va bene, si presenta il cliente, se il cliente è d'accordo si edita definitivamente il film. Poi si consegna gli immittenti e va in onda. Sembra facile, ma... Grazie. Niente, più grazie. Grazie. Grazie.